benvenuti cari amici di mobileOS.it siamo qui a fare un video con il No One X-Man X1 un rugged phone molto interessante dell'azienda cinese vediamo un pochino come si comporta con lo zoom eccolo qua torniamo torniamo indietro vediamo un po anche come si adatta ai vari cambiamenti di luce e ora andiamo a chiudere su qualcosa di più ravvicinato come sempre abbiamo anche la messa a fuoco direi niente male